buonasera vedo che il tema appassiona allora rientriamoci nel tema appunto dell'allargamento delle squadre da 18 a 20 eccetera c'era un amico tifoso del lecce mi fa notare che il problema non è la impossibilità di gestire una serie a 20 squadre ma l'allargamento delle competizioni parallele l'allargamento c'è stato quest'anno ma già l'anno scorso si denunciava l'ampliamento della centri già l'anno scorso si denunciava il fatto che si giocasse troppo e che un campionato a 20 squadre fosse esagerato non è questione di voler favorire le grandi società riducendo il numero delle giornate a scapito delle piccole società non è questione di negare il diritto alle piccole società allora se si ragiona in questo modo allora facciamo la serie a 24 squadre così si dà la possibilità ad altre quattro squadre qui non è questione di violare o meno un principio democratico perché allora se si ragiona in base a questo principio ripeto la sera potrebbe appena anche 30 perché è giusto dare il diritto a tutti anche alle piccole squadre di partecipare alla competizione massimo sia la serie a il problema un altro il problema è che ovviamente le cosiddette grandi attraverso l'acquisizione di redditi visivi eccetera fanno ovviamente l'attraino a tutto il movimento e ne beneficiano anche le piccole squadre di questo movimento ma qui non si vuole discriminare a nessuno la questione è che poi le società che fanno da traino sono quelle che poi acquisiscono hanno il maggior fatturato acquisiscono la maggior parte dei diritti sono quelle che poi vanno a giocare tante competizioni questo è il punto cioè bisognerebbe riequilibrare un po tutta la situazione quanto all'allargamento delle altre competizioni ma l'allargamento delle competizioni si è deciso dalla uefa e dalla fifa adesso per il mondiale per club con il mondiale per club non è deciso dalle singole federazioni e lì purtroppo devi sottostare a quanto decide la uefa nella persona in questo caso di ceferin che decide per tutti è una norma uefa non è una norma tant'è vero che alcune federazioni la bundesliga già è tornata indietro tanti anni fa e adesso la liganda l'anno scorso hanno deciso di tornare a 18 squadre nessuno glielo vieta la uefa non può vietare che il campionato sia a 18 squadre è una decisione della singola federazione ma la singola federazione non può influire sull'ampiamento della uefa champions league da da un tot di squadre a portare per esempio la prima fase chiamiamola così adesso dal fare di sei a otto partite le singole le singole federazioni non possono intervenire in questo e una volta c'era la serie a 18 squadre funzionava benissimo se era la serie a 18 squadre vuol dire un mese in meno ma per tutti è ma per tutti è chiaro che poi cala l'introito è evidente che cala l'introito ragazzi però del resto non si può neanche pensare che un juve milan inter tanto per citare le prime tre squadre quanto a tifoserie quindi in questo caso juve inter milan perché ultimamente l'inter ha effettuato un sorpasso possano prendere gli stessi diritti televisivi delle piccole squadre è impensabile cioè producono decisamente di più fanno introitare di più al movimento calcio italiano quindi anche quando si sbandiera un'equa ripartizione diritti uguali ma no è impossibile è impensabile ed è illogico ma io qua non ce l'ho con le piccole squadre sia chiaro cioè allora la mia cremonese non dovrebbe mai giocare in serie a cioè cosa significa la squadra della mia città non dovrebbe mai giocare in serie a è una questione di trovare un punto di bilanciamento che in questo momento non c'è non c'è cioè l'idea iniziale di agnelli della superlega che poi è stata scimmiottata adesso da questa champions ok era proprio questa qua ma non voleva essere una discriminazione voleva essere una valutazione di quanto certi movimenti calcistici possano apportare in termini economici ad una federazione e di quanto non lo possano fare altre società cioè se partiamo dal principio che siamo tutti uguali e tutti devono avere gli stessi intrati abbiamo sbagliato completamente abbiamo sbagliato completamente tutti uguali non lo siamo nella vita nel lavoro nello sport nessuno è uguale a un altro non siamo tutti uguali questo è il principio di base poi ripeto non si vuole discriminare nessuno si può rivedere questa ridistribuzione eventualmente di diritti ma se partiamo dal presupposto che non si può negare alle piccole squadre di partecipare alla serie a e sono anche d'accordo su questo perché allora portiamo la 24 a 26 a 28 a 30 così tiriamo dentro altre società cioè 20 in questo momento secondo me sono troppe sono troppe due in meno tra l'altro allargherebbero la competizione dalla serie b alla serie a cioè non lo so io io la vedo così e poi magari mi sbaglio poi magari sto dicendo una serie di di castronerie di cose inesatte eccetera però onestamente io continuo a pensare che si giochi troppo se poi la uefa avesse fatto anziché ampliare la champions league avesse fatto un passo indietro sarebbero stati a fare della uefa ma anzi la uefa ha tutto l'interesse ad ampliare il discorso poi vanno avanti le più forti e le più forti sono anche quelle che poi partecipano il nostro caso per esempio nel caso italiano a un campionato a 20 squadre poi si stanno infortunati se l'ho legato ad un discorso di infortuni si stanno infortunando altri giocatori che non fanno parte che non giocano le coppie perché fazzini per esempio dell'empoli non gioca la vogliaiolo del venezia non gioca le coppie europee uno si è fatto il problema muscolare l'altro si è rotto il legamento crociato si gioca troppo in generale che in serie a 18 squadre secondo me potrebbe essere meglio per tutti per tutti ma non ce l'ho con nessuno sembra chiaro ed evidente sì abbiamo portato via tanto tempo a questo argomento però vedevo che gli aveva diciamo appassionato comunque c'erano dei riscontri su questo sono uscite le le pseudo sanzioni del finanziario o meglio in termina sono a posto una piccola sanzione è toccata la roma naturalmente va avanti controllo e adesso chiede sì ma la juve perché la juve per come la juve semplicemente non era andata sotto la lente di ingrandimento l'anno scorso perché aveva scontato una sentenza e la sentenza era quella che l'aveva privata della possibilità di giocare la conference conquistata sul campo con la penalizzazione la champions conquistata sul campo col terzo posto non avendole giocate chiaramente questo ha comportato che la uefa non è andata a controllare non è andata a indagare diciamo così a controllare il bilancio da questa stagione la juve dovrà di nuovo sottostare al discorso del fair play finanziario sono problemi della società la società ha agito in questo mercato in un certo modo sa benissimo di essere tornata sotto la lente di ingrandimento della uefa da questo punto di vista e quindi saprà benissimo anche come comportarsi di conseguenza conti non li ho sotto mano e i conti li fa la società li controllerà la uefa dopodiché vedremo cosa sarà deciso ma questo il prossimo anno iscrivetevi al canale e ci vediamo naturalmente domani con un video solo perché domenica giustamente si riposa un po anche se è vero che io ho riposato pure ieri però domani si riposa ufficialmente un video ciao a meno che ripeto non succedano cose straordinarie a di pogba velocissimo è vero mi avete chiesto no ha portato la sua testimonianza al tas si è presentato al tas e si attende la sentenza quindi lui ancora sotto contratto con la juve al minimo di stipendio è chiaro che se dovesse diventare definitiva la squalifica i quattro anni la juve andrebbe alla recensione del contratto molto semplice bisogna aspettare la sentenza del pass ciao ragazzi